Taglio del nastro oggi alle 19 per il nuovo Lungolago provvisorio, progetto promosso e finanziato dagli amici di Como e dal consorzio Como Turistica in collaborazione con oltre 60 aziende, associazioni, enti e privati cittadini. E' finalmente finita dunque l'attesa per i tanti comaschi e turisti che da tempo chiedevano di poter tornare a passeggiare in Riva Allario. Sostanzialmente si è creato veramente un gruppo di persone che ha dimostrato che il grande lavoro di squadra si può fare. La gente ci fermava per strada chiedendoci se riuscivamo a farlo, ma soprattutto la cosa più bella è che gli abbiamo ridato la speranza di ritornare a vedere il Lungolago e passeggiare su un bel pezzo veramente di Como. Realizzata a tempo di record la passeggiata va da Piazza Cavour ai giardini a lago e presenta numerosi elementi di novità, come un pannello alto 3,50 metri capace di produrre fino a 5 kilowatt necessari per far funzionare le luci del Lungolago. La soddisfazione più grande è indubbiamente aver restituito ai cittadini, ma anche perché no ai visitatori, ai turisti, questa passeggiata a Lungolago che come si può vedere credo possa essere definito tutto meno che così tanto provvisoria. Speriamo appunto che i tempi di rimanenza di questa passeggiata possano andare oltre a quanto previsto e quindi fino a che non riprenderà realmente il cantiere del Lungolago. Per il momento a comaschi e turisti non resta che riappropriarsi dello spazio frontelago, ovviamente con la dovuta attenzione e il dovuto rispetto. Noi abbiamo comunque inserito nel nostro progetto tanta area a prato verde naturale, è importante, attenzione, questo è molto importante, che si preservi e quindi non si calpesti il prato per almeno una settimana, se no dovremmo rifare tutto il lavoro. Quindi una raccomandazione che facciamo a tutti i visitatori. L'area giochi no perché è sintetica, ma solo gli spazi verdi naturali. Grazie a tutti.